Si è tenuto ieri sera a Palazzo Orleani il tradizionale passaggio di consegne tra Renato Schifani e Nello Musumeci. Nella sede della Presidenza della Regione il nuovo Governatore ha ringraziato l'uscente per il lavoro svolto, rinviando a più avanti la scelta della Giunta. Ho assunto questo ruolo facendo in modo che la priorità del Presidente della Regione sia le emergenze, domani ci regheremo con il responsabile della protezione civile trapanese per visitare quei luoghi, per incontrare gli amministratori locali, le autorità, registrare i fatti, ma non soltanto i fatti, ma registrare le esigenze e le aspettative. Le quali naturalmente hanno diritto, non soltanto loro, ma i cittadini colpiti da quelle in cui faccio. Cercherò di essere aperto al dibattito, al dialogo con tutti, sia con la maggioranza che mi ha voluto, sia con le opposizioni che intendo incontrare quando saranno stati costituiti i gruppi parlamentari. Perché da parte mia non c'è nulla di precluso nei confronti di chi sta in parla. Ci confronteremo, se vi sono le proposte, ci confronteremo. Cercheremo di seguire un attimo quello che è il loro percorso, le loro proposte. Non c'è nessuna precauzione. Cercherò di obbedire quotidianamente a questi canoni dell'onestà, della trasparenza, del dialogo, del confronto, ma anche della decisione. Quando ci sarà da decidere, io non mi lascerò tirare la gianca né da un lato né dall'altro. Lavorerò, mi confronterò con tutti, ripeto, ma devo dire che questa terra ha bisogno di proseguire un percorso di crescita economica che tu hai iniziato.